Ciao a tutti, oggi prepareremo la sciambella alle nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, uova, zucchero, olio di semi di girasole, yogurt alle nocciole, estratto di vaniglia, lievito per dolci vanigliato, sale, pasta d'arance o la scorza grattugiata di un'arancia, granella di nocciole e nutella per decorare. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le uova ed azionare il bimbi per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. aggiungere lo yogurt l'olio la farina la fecola la pasta d'arancia l'estratto di vaniglia il sale e il lievito ed azionare il bimbi per 4 minuti a velocità 4 aggiungere la granella di nocciole ed amalgamare con la spatola versare in uno stampo da 28 centimetri ben imburrato ed infarinato cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti fare sempre la prova stecchino la ciambella è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo decorare con nutella e granella di nocciole e servire ciambellone alle nocciole grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 Grazie.